31.000 studenti coinvolti di 172 scuole delle province di Padova e Vicenza, 28 progetti didattici incentrati sull'educazione ambientale. Il progetto scuola di Etra punta a coinvolgere studenti e famiglie e per questo non mancano concorsi e dunque premi. Alla scuola media-longo di Curtarolo, infatti, sono andati 16 monitor recuperati dal rinnovo della dotazione informatica dell'azienda Multi Utility. Serviranno per potenziare l'aula di informatica dell'istituto. Dotazioni informatiche che sono residuate a seguito del rinnovo della nostra dotazione informatica. È un modo anche per dimostrare che molti materiali possono essere riutilizzati e quindi anche questo è un messaggio educativo. I monitor sono una manna dal cielo perché voi sapete che purtroppo le risorse della scuola sono sempre molto limitate, quindi dobbiamo inventarci di tutto. I molitor proprio in questo momento stavano dandoci, ci hanno salutato e di conseguenza arrivano proprio a proposito. Il progetto scuola è giunto alla 22esima edizione coinvolgendo studenti dalla scuola dell'infanzia alle superiori nei 75 comuni interessati. Lezioni tecniche, visite agli impianti e poi informazioni che finiscono nelle case dei ragazzi, tra le famiglie. Queste informazioni non se le tengono per loro ma vengono poi veicolate all'interno delle famiglie. Se oggi abbiamo un risultato di differenziata nel territorio di Etra che sfiora al 72%, lo dobbiamo anche a loro. Quest'anno il tema più discusso a scuola è stato quello della plastica, ma anche acqua e rifiuti sono stati protagonisti dei lavori degli studenti.